scopriamo cosa accade nei nuovi episodi di beautiful la storica soap opera statunitense in onda su canale 5 domenica 11 dalle 14 05 da lunedì 12 a venerdì 16 dalle 13.40 sabato 17 agosto partire dalle 13 50 d con collabora con ridge e bill per favorire la cattura di sheila la donna ha però un infarto e viene portata d'urgenza in ospedale beautiful le anticipazioni dall 11 al 17 agosto 2024 a sorpresa anche d con collabora con gli agenti insieme a bill e ridge per tendere una trappola a sheila nonostante le precauzioni del caso e l'esperienza di baker il poliziotti sheila riesce a fuggire ancora una volta ma bill la insegue repentinamente la donna ormai in una situazione disperata crolla a terra priva di sensi le cause sono sconcertanti la donna viene colpita da un infarto portata d'urgenza in ospedale la carter è affidata alle cure di lee e finn in questo frangente lee memore di sgradevoli eventi passati vede l'opportunità perfetta per lasciarla morire e liberarsi di lei una volta per tutte ridge raduna tutti i familiari a casa di eric dove lui e bill si preparano a rivelare il piano elaborato che ha portato all'arresto di sheila durante la riunione i due uomini spiegano nei dettagli il complotto segreto che ha permesso di catturare sheila tutto ciò mentre all'ospedale è in una situazione critica tra la vita e la morte nonostante il parere contrario di lee finn decide di intervenire per salvarle la vita offrendole così una seconda chance mentre wyatt hop e liam discutono con bill su tutti i passaggi del piano che lui e ridge hanno orchestrato con l'aiuto dell'effe di eddie baker per incastrare sheila finn riesce a stabilizzare sheila sotto lo sguardo stupefatto di steffy e la disapprovazione di lee che avrebbe preferito vederla morire tutti esprimono la loro gratitudine a bill per il suo impegno e sacrificio bill vede nel frattempo i suoi cari grati per il suo impegno e i sacrifici recentemente compiuti nel frattempo taylor e brooke si interrogano sulla veridicità dell'infarto di sheila e discutono anche del ritorno di ridge mentre quest'ultimo racconta a steffy e finn tutto ciò che è successo liam è profondamente preoccupato per l'atteggiamento di thomas che passa molte ore a stretto contatto con hop quest'ultima inizialmente titubante si dice contenta della collaborazione con thomas notando i suoi continui progressi personali e professionali che portano beneficio anche a douglas durante un pranzo al ristorante il giardino liam confida a wyatt le sue inquietudini riguardo thomas e la sua potenziale ricaduta nell'ossessione per hop wyatt cercando di calmarlo condivide comunque le sue preoccupazioni e lo esorta a rimanere vigile deciso a verificare la situazione di persona liam decide di andare a osservare direttamente il clima lavorativo tra thomas e hop